Ciao, buongiorno a tutti. Oggi è il mercoledì 3 di aprile. Un breve pensiero? Allora, siamo davanti a un calendario e davanti a un orologio. Il tempo, il tempo che è un tiranno, un tempo che ci tiranneggia e spesso ci schiaccia. Vogliamo davvero farci schiacciare dal tempo? No. Come facciamo? Allora una cosa molto semplice. Ecco, bisognerebbe vivere al massimo i momenti che ogni giorno scandiscono la nostra vita. Esempio, l'attimo che vivi, la gioia che gusti, ma anche il dolore che provi. Perché non proviamo a trasformarlo in preghiera? Tutto. Tutto offriamo al Signore e tutto diventerà preghiera e tutto diventerà dono a Dio. Ci ha donato il tempo. Noi lo restituiamo. Ok? Buona giornata. Ciao a tutti.